Tipiche di un grande strumento. Emanuele Swedenborg, 1688-1772, filosofo, mistico, teologo, medium e chiaroveggente svedese, in La Nuova Gerusalemme, dice «Chi sopra ogni cosa ama se stesso, pensa soltanto a sé, parla di sé, opera per sé, poiché la sua vita è la vita di sé stesso». Commento? Le intuizioni di Swedenborg sono tipiche di un grande strumento, quale egli era.